Salve amici del Centro Meteo Italiano. Prosegue la fase di tempo per lo più stabile e calda, ma vediamo come potrebbe essere il prossimo weekend e gli ultimi giorni di giugno. Verso il finire della settimana i principali modelli mostrano il transito di un piccolo cavetto d'onda sulle regioni settenzionali. Questo porterà qualche temporale in più al nord, ma anche un lieve calo delle temperature sulle regioni del centro e in misura ancora minore del sud. Con l'arrivo dell'ultimo weekend di giugno l'anticiclone africano potrebbe concedere una pausa con temperature che dovrebbero tornare su valori più vicini alle medie del periodo anche sulle regioni meridionali. Avremo comunque tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie al promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Per gli ultimi giorni di giugno l'incertezza è ancora elevata, ma i principali modelli propongono una nuova espansione dell'alta pressione africana verso la nostra penisola. Accentuazione del caldo dunque con temperature sopra media anche al nord. Trattandosi però di tendenze vi invitiamo allora a seguire tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.